Musica Un saluto a tutti ragazzi da Mission 91, siamo su One Piece, War Seeker, e per la precisione non con, ma per la precisione siamo a Ruby Village Perché ora ci rimane una sola missione, che è questa qui, dobbiamo andare a dirigerci qui e per farlo passeremo per queste altre due qui Quindi ho deciso di passare per Ruby Village, che è la zona più vicina, credo, più vicina alla nostra quest Allora, io devo andare per l'altro esatto, devo andare per di là, però posso fare una pazzia secondo voi, posso provarla, posso provarla La provo Siamo fortissimi, siamo fortissimi, noi vedi che quando le cose le sai fare bene e hai anche soprattutto una gran quantità di fortuna Ti va tutto alla grande, soprattutto perché hai una gran quantità di fortuna Che cacchio, questa volta non ce l'ho avuta, maledetto tu, muorici Allora, c'era una missione, tra l'altro questa missione ci siamo passati vicino, me ne sono accorti in montaggio che ero qui vicino a due passi dal signore e l'ho ignorato fortissimo Perché stavo cercando le strane pietre e sono andata a cercare le strane pietre senza parlare con la signora, non è un signore, è una signora Mi dica, isolana Vorrei realizzare degli accessori, ma sono a corto di materiali Se non è troppo disturbo e ti andrebbe di trovarmi due conchiglie piccole, dovrei avercele signorina In genere me le procuro da sola lungo la spiaggia al porto, ma me ne tengo alla larga per via dei pirati Se mi porti le conchiglie posso offrire in cambio una cintura, hai il potere di... hai il potere... portentoso, scusate, di rinforzare le tue difese Non riuscivo a leggere portentoso, non so perché Signorina, ho il portentoso potere di averle già Sì, vedi? Grazie mille, posso finalmente mettermi all'opera Sto andando dalla parte giusta? Sì, perfetto, la mia missione è in fronte a me È quel signorino lì? Vestito di giallo? Sì, sì, è lui Eccolo lì, signorino vestito di giallo Salve signorino, mi dica Giallo coi capelli blu, bellissimo Isolano, oggi è il gran giorno, chiederò alla mia amata di sposarmi Ma ho il sospetto che mi servirebbe un bel regalo E probabilmente un abito che non ti faccia sembrare una banana Però quelli sono gusti personali Ehi là, tempismo eccellente, mi porteresti tre fiorellini? Forse ci sono anche questi Lei adora i fiori, se le farò dono di quei fiorellini Sono certo che accetterà la mia proposta di matrimonio Esatto, tutto si basa sui fiorellini Dovresti riuscire a trovare i fiorellini al cimitero Cioè, tu mi stai chiedendo di rubare dei fiori da un cimitero Da regalare alla tua donna mentre ti proponi il matrimonio Vestito giallo e verde con una banana e coi capelli blu No ma, ci sta, eh, cioè, direi che è un ottimo piano Hai trovato ciò che ti ho chiesto? Grazie, il matrimonio è assicurato ormai, sì Prepariamoci con le bare Questo è quello che mi aveva promesso, grazie Io credo che invece che un matrimonio ci sarà un funerale Ma magari mi sbaglio io, che ne so Ok, teoricamente siamo arrivati ragazzi La missione è lì Prima di avviarla però Prima di avvicinarci oltre Sblocchiamo le abilità Allora, avevo 1514 punti Allora, ho sbloccato il potenziamento nella tensione Ora ne accumulo il 100% in più E ho sbloccato due volte il potenziamento del consumo Quindi ora ne consumo 75% in meno Poi ho sbloccato il legal storm come attacco speciale Così ora dovrei averli sbloccati tutti Perché questi sono potenziamenti di quelli che abbiamo già Poi ho ottenuto la schivata perfetta Che se riesco a farla bene mi rallenta il tempo E la schivata aumentata Che in teoria dovrebbe farmi schivare più Sì, mi fa percorrere più distanza del 50% E sono rimasta con 14 punti Ora, cosa ci sarà mai lì? Teoria Sanji In pratica non lo so E invece c'è Jan, vedi? Jan, hai scoperto qualcosa? Mi spiace, ancora niente E tu Rufy? Hai idea di dove possono essere? Ma chi? Per esempio, se sono dei bongustai Potremmo cercarli nei ristoranti Se sono dei dormiglioni Invece nelle locande E così via Ah, parlano di Zoro e Sanji Gli ultimi due che mancano Dal niente è uscito È uscito brutalmente dal niente È un piacere fare la tua conoscenza Madame Gella Madame Gella Io sono Sanji Il tuo bene amato cavaliere Va bene Guardate la faccia di Jan Dopo che uno arriva lì Tutto in pompa magna Fiorissimo Lei con sta faccia Gli dice Ah, capisco Ci sta tutto Rufy, sei salvo Eh, Rufy Lo conosci? Purtroppo sì Certo È il nostro cuoco Rufy Quando hai incontrato Una ragazza così meravigliosa Mi ha ripescato Quando sono caduto in mare Dalla prigione celeste Quando sei Caduto in mare? Ehi, ehi Aspetta un attimo Ti ha fatto la respirazione Bocca a bocca? Beh, anche io sono caduto dal cielo Perché le cose migliori Capitano sempre a te Se tu imparassi a seguire Il tuo capitano ogni tanto Magari capiterebbero anche a te Vedi? Invece che te ne vai sempre Dietro le donzele a casaccio Accidenti Non credevo di poter invidiare Qualcuno che ha ingoiato Un frutto del diavolo Lei è molto indifferente Da tutto questo Ops Forse non è il momento migliore Madame Igella Permettimi di presentarmi Io sono Sanji Bene amato cavaliere Nonché cuoco della ciurma Di cappello di paglia Da quando Sanji È un bene amato cavaliere Però dai È orribile sta frase Io mi chiamo Jean Piacere di conoscerti Sanji Che nome meraviglioso Cosa ci facevi qui Sanji? Ho provato a cercare Nami e gli altri Ad Emerald Town Ma i Marine mi stanno sempre addosso E con gli altri Si intende Nami e Robin Perché tutto il resto della ciurma Probabilmente lui non gliene frega un tubo Ora che ci penso A quei tizi sono caduti documenti Che avevano tutta l'aria Di essere ordini della marina E tu hai tutta l'aria Di uno che li ha raccolti Purtroppo sono scritti in codice E non ho idea Del loro effettivo contenuto Deve trattarsi Di un'informazione riservata Un codice? Ti dispiace se do un'occhiata Ora scommetto Che lei lo sa leggere Vuoi dire che puoi decifrarli? Sono la leader antimarine dopo tutto Ho i miei formatori Tu inizi a puzzare ragazzina Lo sai? Sei incredibile Jeanne Semplicemente incredibile Informazioni riservate Come una mappa del tesoro? Aspetta Ma che strano Questi ordini sono incompleti Dici su serio? Qui recita chiaramente Parte 1 di 3 Quindi mancano le altre due Gli altri potrebbero contenere informazioni Su di noi O sulle prossime mosse della marina Se racchiudessero dettagli Sui piani della marina Potrebbero essere inestimabili Ho capito Forza Sanji Andiamo a cercare le due parti mancanti Qualunque cosa per aiutare Jeanne Per iniziare Dividiamoci E perlussiamo Emerald Town Mi raccomando voi due Siate prudenti Ora Emerald Town È piena di marine Con questa faccia Non mi meraviglia Fossero tanti Non preoccuparti Troveremo gli ordini E torneremo in un battito Di ciglia Ehi forse Musubi Potrebbe darci una mano Chi è Musubi ora? Non lo conosco Musubi signorina Chi è Musubi? Esatto Chi è Musubi? È la donna che si occupa di raccogliere gli ingredienti Per il pranzo dei suoi bambini Come? Una pazza È sempre in giro Potrebbe essersi imbattuta negli ordini mancanti Così a casaccio Pranzo? Credi che possa preparare da mangiare anche a me? La casa di Musubi è sulla quinta strada di Emerald Town Se non sbaglio Il nome della strada è scritto sul cartello Alla base delle scale I bambini di Musubi giocano vicino alla quinta strada Quindi possono aiutarti a trovare la casa Sicuro Andiamo a mangiare da questa Musubi E a trovare il resto degli ordini Ovviamente Certo Prima si mangia però Vero Rufi? Le priorità innanzitutto Prima si mangia Andiamo Cretino Prima però questi due forzieri Perché le priorità Lo vedo, lo vedo, lo vedo Già da qui Guardalo che bello quel forziere Guardalo come chiama il mio nome Dice Apremi me e si fallo Lo so È una malattia ragazzi Il completismo compulsivo È una malattia Ne sono consapevole Però ce l'ho E che ci posso fare La devo Tenere sotto controllo In questo modo Aprendo tutto quello che trovo Sulla mia strada È inutile 3 di 4 Ne manca uno E visto che ne manca Soltanto uno Lo andrò a cercare Non vorremmo mica far Finire così Il nostro completismo compulsivo Ne manca soltanto uno Mi sembra giusto Dare un attimo Un'occhiatina in giro Che ne dite Voi altri Eh? 4 di 4 Wapometal Fatto Allora La signorina Mi ha detto di cercare i bimbi Eccoli E di guardare Sulla base Delle scale Perché c'è scritta Forse là C'è scritto il numero Diciamo Della scala Forse è qua Posso leggerlo? No Sì posso leggerlo Aspetta Fermi tutti È questo qui Quinta strada Emerald Town Ah ok Ma è una strada di scale Dove devo andare Scusami Intanto uccidiamo Sti due qui Salve L'ho colpito volando Che fastidio Non vedo un tube Signore Ecco qua Ho il brutto presentimento Che sta signorina Sia in zona Perché qua stanno I soldati fieri Prenda qui lei Niente L'ha schivato Con una classe Un'eleganza Ma io ne ho un altro Niente Non gliela chiamare Rufi Porca miseria Era loccato l'altro Dannazione a te Era proprio loccato l'altro Ora voglio provare a fare Questa cosa Qui che non uso mai Potrebbe vedere Quanto danno Effettivamente Fa Ce l'ho anche qua Con un attacco caricato No ok Ce l'ho solo Con l'acchi dell'armatura Adesso però Devo trovare la signorina Qui c'è un sacco di marina Aiuto casco Un sacco di marinai Niente signorine All'orizzonte Sbagliato tasto Ehi cos'è quello Un gatling Veramente hanno un gatling Di algalmatorite Siamo pazzi Quanti soldi hanno Sti donati marinai Scusami eh Colpisci anche qua Forse no Forse sono fuori range Adesso però Vorrei sapere Dov'è sta signorina Non da questa parte Potenzialmente Perché mi pare Di averla controllata bene A lei dà fastidio? No E allora interagisco Se non le dispiace Che dice? Grazie E' molto gentile Intanto faccio anche Cacchio si è fermata L'interazione Che palle C'è una bimba L'ho vista C'è una bimba Era qua Eccola E' un bimbo Fa niente Caspita Di solito incontriamo Solo marin E' qui che vive La signora musubi Sì musubi vive qui Oh l'ho trovata I marin adorano I nostri pranzetti Ci siete solo voi? E gli altri isolani? Si sono tutti trasferiti Altrove Quando la marina Ha scelto Questa zona Per alloggiare Il suo Personale Quindi non c'è più nessuno Se non la signorina musubi Noi siamo gli unici Ad essere rimasti Anche perché Loro Vanno matti Per i pranzi Della mamma Ora capisco Tua madre è qui Mamma non c'è E infatti non la vedevo Con l'haki E' uscita a fare la spesa Se non puoi aspettare Puoi trovarla Sul piccolo sentiero In mezzo al lago Va a fare la spesa In mezzo al lago Questa scusa Posso Non posso arrampicarmi Che tristezza Però magari posso fare I miei soliti giochetti Vedi I miei soliti cheat Incredibili Perché con l'ufo Si va un po' più in alto Rispetto al salto normale Quindi si possono fare I giochetti incredibili Dai che ci siamo quasi Ci siamo quasi Siamo al lago Ehi Aspetta Aspetta Fermali Non ti lanciare Nella morte Queste mesi Fai il giro largo Ma quella è Dadan Brutta Dadan brutta Ciao Dadan brutta Quanto vicino Sì sono Musubi E tu chi saresti? Io sono Rufy Per caso hai visto Degli ordini della marina? Jeanne è convinta Che tu ne sappia qualcosa Così glielo chiedi Ordini della marina? Forse sì E lei li ha visti? Incredibile Su serio Grandioso No Rufy Non farlo Dimmi dove li hai visti Ehi frena Anche se sei un amico di Jeanne Non posso aiutarti Senza nulla in cambio Lo so Ma ti devo chiedere Di aiutarmi A recuperare degli ingredienti Per il pranzo Potresti portarmi Due carote appuntite Dovrei Ah cacchio Non so se ce le ho appuntite Ho due carote Vanno bene uguali? Le vuole proprio appuntite? La verdura cresce nei campi di Ruby Village Nella zona nord ovest dell'isola Provo Ma secondo me non ce le ho E invece sì Perché sono bravissima Grazie mille per l'aiuto Vedete che serve ogni tanto Fermarsi a raccogliere il pattume a terra? Ora posso preparare un pasto delizioso Da servire domani ai miei piccoli Oh quindi non si può mangiare subito Rufy Devi smetterla di fare questa cosa Va bene Oh voglio solo assicurarmi Che i miei bambini mangino in modo sano D'altra parte Qualunque cosa accada Sono i bambini Il futuro di quest'isola Oh giusto Gli ordini della marina C'è una piccola caverna A forma di corno Che si staglia sul lago Ieri ho visto un forziere della marina lì Ma non ho la minima idea Di cosa contenga Quindi lei non ha visto Gli ordini Lei suppone che gli ordini siano lì Ma lei non li ha visti Quindi mi ha fatto lavorare per niente Maledetta C'erano anche dei pirati da quelle parti Potresti non trovare più nulla Una piccola caverna Che si staglia sul lago Grazie Aspetta Ehi signora Non si avvicini così Questa ricetta è per te Che cos'è? È la ricetta del mio pranzo speciale Ora potrai prepararlo quando vorrai Avrei bisogno di un cuoco Signora Io ce l'ho il cuoco Non si preoccupi Eccolo un'altra Chissà se ce ne sono altre Ti prego Abbi cura di Jeanne Tende a caricarsi di troppe responsabilità Ci penso io Io devo veramente Genuinamente Imparare A parlare alla gente Da più lontano Ma scusami un po' Questa qui è la caverna A forma di pesce Ci sono stata letteralmente Ieri qua Non c'era un tubo E tu Chi saresti? Scusa Hai visto un forzene Nei dintorni E te lo viene a dire Sicuramente a te Rufi Sì Ce n'è uno Perché è pirla Dentro la caverna Ma non ho nessuna intenzione Di lasciartelo Se sei un pirata Puoi sempre provare A sottrarcelo Con la forza Che cazzo Sparate voi Sto qui Ho fatto un trofeo Stare attenta Non devo fare questa cosa È andata molto bene Ma non devo fare questa cosa Prego Come ero in difesa? Allora Proviamo L'Eagle Storm Ah con due L'Eagle Storm Ok Posso guidarlo? Non posso guidarlo La cosa brutta è che Lui era dietro di me Mi ha fatto danno Ma la cosa brutta è che Con questa inquadratura Io farò fatichissima A colpire le cose E la gente Yeah Molto fatica Perché quello va dritto E basta Ecco il nostro forziere Il mastro scassinatore Non ci è riuscito Ma noi a suon di testate Probabilmente lo apriremo Tra 7-8 secoli Ordini Perché Ma poi mi chiede Ma perché sono qui Così in mezzo al nulla Mettono degli ordini In una cassa All'interno di una Grotta A casaccio Sì Chi è Rufy ha sentito Sanji Anche lui a quanto pare Ha trovato degli ordini Ne ha trovato uno anch'io Perfetto Grande Mettiamoli tutti insieme E cerchiamo di decifrarli Ottimo Sarò di ritorno a breve Dove? Dove devo andare per di là? John Allora Splendido lavoro ragazzi Ora posso iniziare a decifrarli Fatto È una maga Ci ha messo un secondo A decifrare dei codici Incredibilmente super segreti Nella marina Come ha fatto? Su serio? Quindi ora sai dove si trova il tesoro? Quale tristezza Sembra un elenco di annotazioni Relative alla sicurezza Non parla di alcun tesoro Parlami di questa sicurezza Sono curiosa Tutto qui? Che delusione Rufy È questo il modo di ringraziare John per il grande sforzo profuso Per decifrare quegli ordini Per noi? Capisco non sia esattamente Quello che vi aspettavate Ma contiene anche i nomi Di ammiragli della marina Ammiragli? Sono qui sull'isola? Non ancora Ma il loro sbarco è imminente Qui non si è mai visto un ammiraglio Vengono qui per catturare Te e la tua ciurma O forse i motivi sono altri Secondo me i motivi sono altri ragazzi Non credo siano qui per noi Specificatamente Poi magari ci siamo anche noi Però secondo me sono qui per altro Ad ogni modo Ora sapriamo che dovremo essere Ancora più prudenti È tutto grazie a te Mia cara Jeanne Permettimi di ringraziarti Con un dolcino Un dolcino Avanti Andiamo sulla Sunny Eh grazie Era da parecchio Che non mangiavo un dolcino Ma Un attimo Forse non dovrei mangiare dolci In un momento complicato Come questo Invece dovresti Esattamente per questo motivo Ed ecco che parte la romance Fase 1 Mangiare una vera leccornia Fase 2 Sentirsi felici e ricaricati Fase 3 Affrontare il futuro Con rinnovato entusiasmo Sanji Mi sembri quasi una persona normale Dopo aver sentito questa frase Quasi Detto quasi Credo sia lo stesso motivo Che spinge Musubi A preparare pranzi eccezionali Per i suoi ragazzi Ed è per questo Che ti preparerò Un manicaretto delizioso Al punto che non riuscirai A smettere di sorridere Per giorni Sì grazie Sanji prepara anche questo E' la ricetta del pranzo speciale Di Musubi Una ricetta Fammi vedere Ne ho anche altre Sanji Se ti interessano Ne ho un sacchissimo Allora ho sbloccato Praticamente l'esplorazione Che mi permette di mandare I membri della mia ciurma A recuperare oggetti In giro Quindi posso evitare di farlo io Questa cosa è positiva Perché stavo già preoccupandomi Per i materiali Però posso mandare loro Prendiamo chopper Scelgo un cestino del pranzo E' obbligato Ah le ricette Mi danno i cestini del pranzo Capito Sì Quindi chopper è andato È una vera delizia La preparerò anch'io Non appena tornato Sulla Sunny Quindi chopper è andato È fatta Lo consegnerò a chopper Non appena sarà pronto A dopo Rufy Sì chopper è andato Ci sono tutti Non è vero Manca Zoro Rufy Ti manca un membro importante Manca Zoro Il video di oggi Termina qui Io come sempre vi ricordo Di lasciare un commento Un like E di iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti E di iscrivervi al canale